Non tutti ci credono, cari amici, ma Antonella Fiordelisi ha praticamente fatto una gaffa colossale, quindi veramente enorme, con Edoardo Dona Maria subito dopo il grande fratello. Quando gli utenti hanno notato in maniera molto attenta il suo gesto nei confronti proprio del fidanzato, a molti è sembrato anche familiare alla fine. Ed effettivamente era così come sono stati in grado di scoprire almeno alcuni degli utenti quegli attenti che l'hanno inchiodata sul fatto e adesso, che si è scoperto tutto, non sappiamo proprio come farà in qualche modo a difendersi davanti al fatto compiuto. E anche lo stesso partner, attenzione perché potrebbe infastidirsi. Intanto, oltre a ciò che ha fatto Antonella Fiordelisi con questa gaff con Edoardo Dona Maria che entra di diritto nella storia gossip, c'è stato un altro avvenimento inaspettato. La ex amica di lui Clizia Incorvaia gli ha tolto il segui da Instagram, anche se recentemente si sono incontrati essendo il volto di Forum molto amico di Paolo Ciavarro. E Antonella pare che abbia gradito questa novità, infatti ha messo l'Ikea alla notizia. E in tanti la stanno accusando di volerlo allontanare da tutti i suoi amici. Secondo quanto è venuto fuori in queste ore, Antonella Fiordelisi ha fatto una dedica al partner, praticamente simile a quanto fatto in passato col suo ex. Una gaff pazzesca, che potrebbe lasciare spiazzato anche lo stesso Edoardo Dona Maria. Ecco quanto riportato da The People Gossip, Antonella Fiordelisi fa una gaff su Instagram. L'influencer, da poco eliminata dalla casa del grande fratello VIP, ha pubblicato uno scatto con il suo attuale fidanzato Edoardo Dona Maria con scritto «Grazie a te so cos'è l'amore». E poi è stato annunciato ancora. Peccato però che queste stesse identiche parole le aveva già dedicate al suo ex, Francesco Chiofalo. Molti utenti sui social infatti hanno fatto immediatamente notare questa gaffe e hanno ironizzato. La storia con Dona Maria quindi avrà lo stesso epilogo che ha avuto con Chiofalo. Infatti, Antonella aveva dedicato a Chiofalo. «Se so cos'è l'amore, è grazie a te». C'è da aspettarsi anche qualche dichiarazione roboante dell'ex fidanzato, che spesso è intervenuto sui social network. E una notizia bomba è stata sganciata sempre da The People Gossip su Luca Onestini. Prima di entrare al GF VIP, è stato fidanzato con la modella Bea Bozzuto. Quest'ultima, sul suo profilo Instagram, sta pubblicando di punto in bianco alcuni momenti vissuti con Onestini lasciando intendere che tra loro ci fosse stata una vera storia d'amore.